I cento anni dell'aeronautica militare e il show delle frecce tricolori a Policoro sulla costa ionica lucana domenica 25 giugno. Un appuntamento che sarà anticipato venerdì 23 da un sorvolo sulla città di Potenza alle ore 15 circa. Un volo lungo, cento anni, che trova sintesi nella riconoscenza del popolo italiano. Un evento speciale, quello che la Basilicata si appresta a vivere e che l'ente regione ha fortemente sostenuto. A TRM Network le parole di orgoglio e l'entusiasmo del governatore lucano Vito Bardi. Cento anni di aeronautica militare, cento anni di servizio all'Italia, cento anni di orgoglio nazionale. Viviamo questa celebrazione con grande trepidazione e anche con l'orgoglio di poter ospitare un passaggio delle frecce tricolori sul centro di Potenza il prossimo 23 giugno intorno alle 15 e poi con l'Air Show delle frecce tricolori a Policoro. Un evento fortissimamente voluto dalla regione Basilicata e dal sindaco di Policoro Enrico Bianco che si terrà il 25 giugno sul lungomare per uno spettacolo acrobatico unico e indimenticabile. Le acrobazie aeree delle frecce tricolori quest'anno onoreranno quindi tutta la Basilicata sia la provincia di Potenza che quella di Matera nell'occasione dei cento anni dell'aeronautica militare. Voglio per questa occasione ricordare tutti i lucani che hanno servito l'aeronautica militare i lucani che sono caduti in servizio e tutti coloro che hanno reso onore e lustro alla nostra regione e a tutta l'Italia.